Qui sono partite minacce mafiose per evitare che le persone si candidino e ho pensato di fare una lista particolarmente di donne. Bene, queste qui sono state quasi tutte minacciate attraverso messaggini, attraverso telefonate e quindi due di queste si sono ritirate. Si prospetta una campagna elettorale infuocata, quella che scandale si appresta a fare in vista delle elezioni del prossimo 10 giugno. La denuncia che fa il sindaco uscente, prossimo candidato alla competizione, Iginio Pingitore, è molto seria. C'è qualcuno nel comune del Crotonese che sta intimidendo una parte dei candidati al Consiglio Comunale a desistere e le minacce pervenute sono pesanti. Se ti candidi con Pingitore ti brucieremo le macchine. L'altro giorno è arrivata un'altra lettera all'Avvocato Pascuzzi, non è candidato con me, è candidato con l'altra lista di Brescia e ha ricevuto un'altra lettera ingeriosa. Ma che cosa sta succedendo? Alla sto punto io devo capire da dove viene, questo personaggio a chi sostiene? Le liste dovranno essere consegnate entro il 12 maggio e c'è un po' di paura tra i prossimi candidati. Se non riesco a portare la lista con le persone, che io devo fare una mucchiata a Branca non ne presento e poi ognuno si assume la responsabilità. Giuseppe Laratta per la C News 24